Ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale di Quenticiano e oggi sono qui con questo nuovo ed ultimo video news GTA 6 2019 Oggi ragazzi andremo a parlare di nuovi rumors, degli ultimi rumors di fine anno per quanto riguarda GTA 6 Lo so molti di voi si sono rotti le balle proprio di questi rumors, fake eccetera eccetera Però ragazzi ci sta a parlarne anche per creare più hype per quanto riguarda questo 2020 Prima di iniziare con le notizie vi invito a guardare il mio ultimo video del 2019 che uscirà il 31 Molto probabilmente questo uscirà il 30 quindi oggi è 29 quindi domani ragazzi lo pubblicherò quindi per voi 30 Il 31 quindi l'ultimo giorno dell'anno uscirà un video sul mio canale in cui vi andrò a parlare di quello che sarà il mio canale Di quello che è stato il mio canale quindi ragazzi mi raccomando vi aspetto Comunque per quanto riguarda queste ultime news su GTA 6 Come al solito c'è stato un utente chiamato QA Tester Che sostanzialmente su Reddit ha creato un post che ovviamente come nella stragrande maggioranza dei casi è stato rimosso dal forum In pratica che cosa ha detto in questo post questo QA Tester Ha detto che ha avuto la possibilità di provare GTA 6 su di un dev kit di PS5 In pratica ragazzi ha avuto modo di testare GTA 6 per Next Gen e quindi per la Playstation 5 Secondo appunto queste notizie lo sviluppo di GTA 6 è iniziato nel 2014 anche se è entrato nel pieno dello sviluppo solo nel 2016 E questo appunto autore questo insider dice E questo diciamo modder come lo vogliamo chiamare insider Parla di una mappa di gioco gigantesca e animata addirittura da un ampio numero di effetti atmosferici Le città principali in questo caso sono due ovvero Vice City e Carcer City Carcer City che è ispirata a quanto pare a Boston E inoltre l'area sarebbe divisa in tre stati Per quanto riguarda il personaggio non sappiamo di preciso chi stava guidando questo giocatore Questo insider Lui stesso ha detto che molto probabilmente stava utilizzando un semplice avatar per testare il gioco Quindi non un vero e proprio personaggio principale della storia Ma conferma che comunque nel gioco ci saranno più protagonisti proprio come in GTA 5 E quindi la possibilità di utilizzare più personaggi Inoltre parla anche che uno dei due personaggi potrebbe essere un poliziotto sotto copertura Quindi addirittura ragazzi GTA dalla parte della legge mi sembra molto molto strano E infine dice che le forze dell'ordine In particolare la EA è molto robusta e tattica Quindi sostanzialmente ci romperanno più le palle rispetto a GTA 5 Perché già su GTA 5 ragazzi la polizia rompe abbastanza le palle Per quanto riguarda il resto ragazzi non sappiamo più niente Le informazioni riportate da questo appunto QA tester sono quest'ultime Che avete sentito Quali sono le mie personalissime opinioni? Allora ovviamente ragazzi stiamo parlando di rumors E i rumors ovviamente non possono non uscire ora che stanno parlando veramente tantissimo della PS5 E ovviamente sappiamo benissimo che uno dei giochi più attesi della PS5 è appunto GTA 6 Quindi è ovvia, è scontato come cosa quella di cavalcare l'onda della PS5 Per riportare delle notizie in merito a GTA 6 E quindi ragazzi sostanzialmente io non penso che queste notizie siano vere Però comunque potrebbero anche esserlo Purtroppo ragazzi adesso ci sono in rete veramente tantissime notizie Che sembra veramente difficile credere ad una di esse Quindi ragazzi sostanzialmente io penso che questa notizia dovremmo prenderla con le pinze Perché comunque è inverosimile il fatto che magari questo abbia già giocato al GTA 6 Conoscendo la Rockstar in quanto è molto molto riservata Quindi ragazzi mi raccomando non credete sempre a tutto quello che esce Io ovviamente vi aggiorno sul canale perché mi piace aggiornarvi anche sui rumors Sulle cazzate che girano Però comunque ragazzi potrebbe come non potrebbe essere vera questa notizia Ovviamente sta a voi scegliere da che parte stare Se crederci o meno Ovviamente cosa sappiamo noi di ufficiale è sostanzialmente un cazzo Siamo molto fiduciosi e speriamo in un annuncio nel 2020 Perché cazzo siamo entrati in un nuovo decennio Cara Rockstar è pure arrivata l'ora di parlarci sostanzialmente di GTA 6 E quindi io penso che nel 2020 Ora sto tirando un po' delle mie personali opinioni Nel 2020 verrà annunciato GTA 6 Anche io penso comunque verso la fine del 2020 Quando si avvicina la data d'uscita della PS5 E poi verrà annunciato per il 2021 Ma molto probabilmente verrà rinviato al 2022 Sempre se questo viene annunciato nel 2020 Noi ovviamente lo speriamo Anche perché il 2020 mi sa proprio di notizie di GTA 6 ufficiali Ragazzi non so per quale motivo Ma mi dice proprio notizie ufficiali di GTA 6 Me lo ispira proprio questo 2020 Ovviamente staremo a vedere E niente ragazzi Noi ci vediamo nel 2020 Con i prossimi video E soprattutto i prossimi aggiornamenti su GTA 6 Ovviamente non vedo l'ora di leggere i vostri commenti sotto Questo video Noi ci vediamo alla prossima E ciao a tutti Musica Musica Grazie a tutti.